Buongiorno a tutti ragazzi, guardate che roba anche quest'oggi, guardate che colori e guardate che alba meravigliosa vista lago di Alserio. Oggi, ma il merito non è mio, ovviamente come sempre, devo dire grazie anche ai nostri ascoltatori che ci seguono con grande affetto. Cosimo in particolare che oggi ci ha portato qui a Carcano di Albavilla, c'è una storia anche da raccontarvi, la storia del Barbarossa, la storia della battaglia di Tassera e poi vi facciamo vedere anche questa bellissima alba di questa mattina. Ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Cosimo, buongiorno Marco, grazie perché io non sapevo, non conoscevo questo posto. Teresa, Enrico e non Agnese, buongiorno a voi, anche Dario, un caro saluto, ciao Tania, buongiorno. Sì, è meraviglioso sì perché guarda che roba ragazzi. Ciao Franci, buongiorno anche a Rosa, ad Achille, un caro saluto anche a te, a Loretta, buongiorno. Cosimo, mi spieghi due cose. Questa è la chiesa di Carcano, chiesa parrocchiale di Carcano, che è una frazione di Albavilla qua in provincia di Como. Questa chiesa parrocchiale dedicata a Sian di Unigi è stata edificata successivamente sui resti del castello del Barbarossa. Che è questa qua, allora andiamo a vedere, questa è la chiesa, poi vi facciamo vedere ancora, vi facciamo vedere anche giù lago, Simona, Donatella, buongiorno. Intanto arrivano i saluti, Nicola, buongiorno, Graziella, da dove? Carcano, Albavilla, buongiorno a Graziella, buongiorno anche a Rita, a Giuliana, la storia della battaglia anche di Tassera. Marina, Luce, buongiornissimo. Luce, guarda che roba, oggi a proposito del tuo nome, guarda qua, c'è una luce meravigliosa. Mirca, Clara, buongiorno Paolo, poi un saluto più bella della parietà, Isabella, buongiorno dalla Francia, buongiorno a Roberto, ad Anna Rosa, buongiorno Cecilia, dalla Svizzera, Moreno, poi Graziella, Simona, Sergio, buongiorno Arianna, Giancarlo, Silvana, Tamires, Corrado, da Cabiate. Un saluto ad Andrea, un saluto anche a Romeo, un saluto a Melissa. Dicevi Cosimo, vai avanti perché c'è anche Roby, il nostro focacciaro, il nostro focacciaro che ci saluta. Ciao Roby, buongiorno Nadia, saluti anche a te, a Lidia e a Piero, vai avanti. Battaglia di Tassera 1160, qui si scontrò il Barbarossa, le truppe del Barbarossa con il comune di Milano praticamente, i più alleati e la battaglia si concluse con la sconfitta del Barbarossa che dovette ripiegare poi al castello di Montorfano, sa che in cima c'è ancora un gudele dei resti, una torre, lì c'era un castello, a Montorfano in ritirata e successivamente ritirò al castello Baradello di Como. Perfetto, c'è anche questo aspetto particolare che ci ha raccontato Cosimo e Vilma, buongiorno Katia, un saluto anche a Corrado, a Milco, comandante, XII secolo ci chiede Corrado? Sì, 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 esatto. Questa brutta notizia, bella storia, fantastica, caro Cosimo, Graziella, anche un po' di storia, e non solo storia ragazzi, Cinzia buongiorno, perché adesso Cosimo mi diceva, facciamo vedere dove c'è la mappa, qui se voi venite a Carcano, buongiorno anche a Rita, buongiorno a Dale, sotto di voi c'è il lago di Alserio, però Cosimo mi diceva che qui ci sono tanti sentieri per la natura, Si può fare il giro del lago di Alserio, c'è un sentiero ad anello che gira intorno al lago di Alserio, chiaramente si può partire dal serio, però questa è una tappa, perché c'è anche questo flashback storico, per cui è stato inserito giustamente nei percorsi le vie del parco. Una bella storia, insomma dicono i molti, ciao anche a Dolores, molti ci scrivono purtroppo di questo attacco russo, che speriamo in bene, allora, ciao Marcone, Clara, buongiorno, Samantha, Anna Rosa, Emanuela, buongiorno a te, poi anche Alca, poi Fabiola, poi Marcone, appunto Katia, Ale, Rita, Clara, buongiorno, Graziella, Emily, credo che ci serviva un risveglio così, bravissimi, ma il merito è suo, io non centro niente, lui, il merito è assolutamente suo, allora, eccolo qua, bravo Cosimo, perché in effetti, ecco, questa è una bella iniziativa, una bella idea, guarda, guarda che bello, ecco, siamo qui noi, noi siamo qui, siamo qui, parcano inferiore, esatto, perfetto, per cui le vie del parco, si può iniziare il giro del lago di Alserio, 16 chilometri, 16 chilometri, ci vogliono, calcolando 5 chilometri all'ora, per fare tutto il giro, sono 3 ore, a un passo medio, però è una passeggiata tranquilla, tutta in piano, certo, per cui si fa, è una passeggiata anche per famiglie, bene, bene, una domenica mattina, uno parte alle 9, bel percorso nel verde, sì, assolutamente, verde, lago, natura, si costeggia il lago, si costeggia il bosco, sempre in zona lago, ci sono dei punti anche molto belli di bel vedere, qualcuno che mi dice, tante passeggiate, però non per te, no, questo è anche per Marco, anche in bici, anche in bici, sei sicuro? Sì, certo, assolutamente sì, sei sicuro? Cosimino, non farmi scherzi? Tutta bella in piano, tutta bella in piano, si rientra e si fa il piano d'erba, quindi tutta la pianura sotto erba. Bellissimo, Melissa, ecco, me lo dico anche a voi ragazzi, buongiorno a Marco, Melissa, Antonia, poi un saluto anche a Mauro, Luisella, Antonia, Francesca, Enzo, Paolo Alberto, Loretta, Anna Rosa, Giuseppe, siamo anche in diretta radio in questo momento, quindi siamo gli amici della radio, Antonella e Mimma, ecco, poi guardate gli amici della radio, guardate la nostra diretta che vi abbiamo fatto vedere questa bellissima zona, la zona di Carcano e questa è la bellissima chiesetta, ci ha fatto vedere Cosimo, Cosimo, torniamo la sua e vediamo, ecco sì, perché sta sorgendo il sole e allora chiudiamo dal nostro belvedere qui di Carcano, buongiorno caro Corrado, buongiorno anche a Donatella e molti ci hanno scritto purtroppo di questo inizio di giornata non bello con gli attacchi in Russia e certo, speriamo che la cosa non peggiori, purtroppo, crediamo che è difficile. Ciao Orazio, un saluto anche a te e allora un saluto ad Antonietta, stamattina a Gravedona Alba, spettacolare, l'ario infuocato, immagino, immagino assolutamente, un saluto agli amici di Gravedona e beh anche qui però non siamo come a Gravedona ma è anche qui infuocato, Putin, testa calda, in effetti è un po' fumantino come dire il ragazzo. Oh, abbiamo proprio il campanile qua che suona, Pietro buongiorno anche a Maria, le campane sono in diretta oggi Così, sono le sette e mezza, siamo in diretta, Dolores buongiorno, abbiamo dei posti bellissimi che non conosciamo e in effetti, guarda qua, allora facciamo così Cosimo, oh la la, perfetto, Ines buongiorno, quello sotto di noi sono e il lago di Pusian, il lago di Alserio, Paolo Alberto, Fender, Ines, Loretta e Sonani Campan, Antonella, Ornella, Luca buongiorno, 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 ciao anche a Mimma, eccolo qua, beh devo dire che effettivamente non è male anche oggi Lara, buongiorno, oggi siamo venuti dalle tue parti, poi un saluto a Corrado, Isabella, Jolie, il vostro panorama Nadia, se non ci fossi tu non vedremmo tanti, addirittura, a domani Nadia, ci vediamo domani noi Luigi, Marica, buongiorno anche a Cinzia, un saluto alla Sciura Ornella, all'amico Mario Gatti, tacciano le armi buongiorno a voi, grazie, ciao Giuliana, ciao anche a Clara, che li conosce, Stila Ghetti, Stefano Corrada, Corrado l'alba, u sbagliata, alba spettacolare, davvero, sì, anche a Gravedona, come c'è scritto la nostra vita ma anche qui, ciao Michelina, ciao Nadia, a domani che siano albe di pace, speriamo, un abbraccio alla Sciura Ornella lo facciamo tutti noi, ciao Dolores, sette e mezza al campanile qua di Carcano, perfetto anche oggi caro Cosimino, senti, grazie davvero perché anche oggi abbiamo visto un posto meraviglioso lo abbiamo scoperto, molti magari non lo sanno che c'è questo posto bellissimo a Tiglio ci saluta dalla Svizzera, ciao Melissa, un saluto anche ad Anna, buongiorno a Cinzia, a Cristina a Dolores, a Concetta, a Pietro, buongiorno, direi che abbiamo raccontato quindi anche questa piccola particolarità della storia, ovviamente con Tassera e con il Barbarossa ciao Isabella, ciao Andreina e poi a questo abbiamo abbinato, grazie a uno che di passeggiate se ne intende l'amico Cosimo anche la bella passeggiata del lago di Alserio, quindi 16 chilometri, tre orette tre orette, tutto in piano, ti prendo in parola, passiamola insieme Anna, buongiorno, dalla Francia, saluti a Gianluca e poi Eleonora e poi Piera e poi Silvia, buongiorno buongiorno anche a Corrado, a Pietro, ad Andreina, Isabella, buongiorno ancora dalla Francia buongiorne, merci beaucoup, un caro saluto anche a te, un saluto anche all'amica Luisa che ci segue sempre, buongiorno, buongiorno a voi, guardate che bello anche oggi in mezzo alle nuvole, il sole non è ancora venuto fuori tutto Cosimo ma sta spuntando Giacomina e Loretta, per te tre ore, eh tre ore, se già lui è un appassionale, lui va, va, va in montagna va da tutte le parti, per me è un po', e comunque vediamo, ciao a Dona, un saluto anche a Sandra a Dolores, grazie dei cuoricini, ciao Cosimo, ti saluto anche Giuliana, buongiorno e tanti cari saluti, tre gioli, sì l'ho letto, va bene, Luciano da Domaso, altro posto meraviglioso Gravedona, Domaso, insomma l'Alto Lago, appena riapre la regina, promesso, verrò a fare il buongiorno sull'Alto Lago, che ne vale la pena, ciao Corrado e Leonora, da Brembate, sopra, provincia di Bergamo, viva Como, dice, eh bene, bene, Anna Maria, ciao, saluti anche a te, Mirko, buongiorno a Luciano, poi la nostra amica da Ferrara, Paola, Clara, buongiorno Ennio, buongiorno ancora a te, a Giovanni, buona giornata anche a Nadia, preparati alla colazione di domani, sorpresone allora anche domani amici, seguiteci, domani facciamo il buongiorno con colazione, quindi adesso iniziamo, facciamo così, buongiorno con colazione, va bene, no, grazie a domani, allora vi aspetto numerosi anche domani con tutta la vostra simpatia, Carcano vi aspetta per scoprire un altro bellissimo angolo della nostra Brianza, Carmen e Nadia, salutoni a tutti voi, Cosimo grazie, quando hai altri posti così, queste belle chicche, gliele facciamo vedere ai nostri amici, buongiorno, buon giovedì, a più tardi, e salutiamo anche lo zio Roby, certo, ciao Roby, buongiorno a te, al tuo staff, un caro saluto, e Laura buongiorno, che cielo, grazie, un cielo meraviglioso, Silvana da Castiglion, Fiorentino, Raffaella invece dalla Valcavarnia, Corrado, Gianfranco, e allora guardate, abbiamo iniziato qua sul sasso, ciao Gianfranco, e chiudiamo sul sasso, così si vede meglio, eccolo qua, l'alba di oggi sulla Brianza, bellissima davvero, molto molto bella, l'abbiamo vista l'altro giorno da Tavernere, oggi la vediamo qui da Carcano ad Albavilla, Mirko, buongiorno, dovremmo fare una diretta sulla pesca, con piacere, assolutamente sì, sentiamo anche l'amico William, gli amici dei pescatori, e la facciamo con piacere, Cecilia, buongiorno, e un caro saluto, grazie ragazzi, ciao Rosa, anche a te, tanti tanti cari saluti.